Ora, su Torre Veneri, si fa sul serio. Nel poligono di Frigole in mattinata sono arrivati i carabinieri del NOE su deleghe ricevute dal sostituto procuratore Elsa Valeria Mignone che immane il fascicolo relativo all'area militare. Sotto la lente il disciplinare per la tutela ambientale e la bonifica, quello che contiene il decalogo a cui è necessario attenersi, ma di cui, secondo i senatori della Commissione parlamentare d'inchessa sull'Urani impoverito, ci sarebbe stata una scarsa osservanza. Acquisita formalmente anche la relazione conclusiva della Commissione depositata in Senato lo scorso 9 gennaio. Richiesta inoltre la documentazione relativa alle munizioni utilizzate durante le esercitazioni a fuoco. È su questo fronte che, d'altronde, erano state riscontrate le lacune maggiori, visto che i parlamentari non erano riusciti ad ottenere tutte le schede tecniche storiografiche, pure richiesta agli uffici del Ministero della Difesa ma non pervenute, relative ai colpi completi di alcuni lotti di armi. Tra questi il tanto discusso lotto IMI del 1985, proiettili acquistati da una ditta israeliana a metà anni Ottanta, utilizzati dal nostro contingente impegnato in Somalia nel 1993 e al centro di tre interrogazioni parlamentari, tra il 2001 e il 2003, perché sospettati di contenere materiale pericoloso. Dopo l'esposto integrato due volte, presentato a maggio scorso dall'Associazione Lecce Bene Comune, dunque il fascicolo di indagine promette di arricchirsi. Il nodo da sciogliere non è semplice. Provare, cioè, che l'attività militare all'interno del poligono abbia comportato un inquinamento ambientale, non necessariamente da uranio impoverito. L'area maggiormente incriminata è la fascia costiera prospicente Torre Veneri, area interessata dai lanci di munizioni e, a quanto è dato sapere, mai bonificata. Pare scontato trovare lì un fondale di bossoli e altri armamenti, ma il punto è capire di che tipo e se hanno recato danno e, infine, mandando già oltre, se questo presunto inquinamento abbia avuto conseguenze non solo sui militari che li prestano e hanno prestato servizio, ma anche sui residenti della zona. Si è solo agli inizi, certo, e le indagini sono ancora nella loro fase embrionale. Il primo passo, però, è stato fatto e non è poco.